La serie che ha rivoluzionato il mondo dei telefilmi Il pregio delle prime stagioni era proprio questo, una ventata di aria fresca, qualcosa di nuovo nel panorama culturale televisivo americano. Sicuramente le prime serie avevano un impatto un po' più nuovo, più originale E probabilmente era proprio questo il merito del successo delle prime serie, perché le donne potevano rispecchiarsi. Col passare degli anni e delle stagioni, le protagoniste hanno iniziato ad assomigliare sempre di più a delle caricature di se stesse, diventando ridicole. Infatti anche io riesco a mettere un pizzico di magia in tutto quello che faccio. Io sono magia anche quando fermo un taxi, quindi è meglio che sia finita. È diventato banale, un po' scontato, è qualcosa in cui le donne di tutto il mondo non si possono rivedere, sono situazioni paradossali. E sostengo che queste prime stagioni rientrino in quella che si può chiamare la grande cultura televisiva. Quindi io stasera sulla sette mi guardo Sex and the City. Quindi io mi faccio di cultura. E tu?